Ma chi è questa bimba? Chi è questa bimba? Chi è questa... è questa mamma? Chi è? Chi è? Si è sbagliato Piazza. Ecco a voi, RadicaliSalento.it, Donatella Poretti, deputata, Radicali, è la bimba. Ci sono i bambini, eh? Che piazza la piazza! Ma sono diventati due? Sono sdoppiati. Si sono sdoppiati? Scusa, siccome io sono rimasto che era piccolina, Alice dov'è? È lei la bella, vieni qua. Bella, bella, vieni qua. Si vuole scendere. E ora si scende, se no non so dove mettere i passeggini. E mi è per trovare un bel posto dove mettere i passeggini. No, bisogna fare una mozione speciale di costruzione di parcheggi per passeggini. Questo bisogna fare. Eccoci! Ciao! Ciao! Ciao, eh! Ciao! Dio! Cerchiamo di recuperare Donatella, va? Vediamo se... Con Alice, con Alice. No, ma è così, capite? Che figli esse ne fa? Eccetto, tutto il passeggino. Donatella. Robertino! Basile. Oh, un tanto. È un bacio al pancadricola. Non avrete visto nulla, ma io ho baciato Donatella Poretti. Ci mettiamo così così non ci abbiamo il sole che ci spara. C'hai tre minuti? E voi? Dunque, prima cosa, domanda. Sì. Ma tu oggi, che ci stai a fare qua in Piazza Navona che sono tutti quanti che sono in Piazza San Giovanni? Quelli bravi con i bambini in Piazza San Giovanni. Ma è vero, Alice, Alice, bella mia. Proviamo soltanto un brano, eh? Come mai la mamma ti ha portato qua, non ti ha portato in Piazza San Giovanni? Allora, come mai sei qua e non sei in Piazza San Giovanni? Ma come mai potrei mai essere andata io in Piazza San Giovanni a difendere una famiglia tradizionale come unico luogo felice dove nascere e crescere? Se fossi sul palco di San Giovanni cosa diresti a tutte le persone che sono in quella piazza? Ha risposto alla musica, ha risposto alla musica! Be free, be free, be free, be free, and break your chance and free yourself, be free, be free, the will is all his power, boy, be free! I am my mother, I'm my father, I'm my future, I am my happiness, I'm happiness, I'm happiness, Non siamo andati in Piazza San Giovanni perché c'erano troppi fredi, è un posto pericoloso! C'era una biglietta di Babroch! C'era una biglietta di Babroch! E' una biglietta di Babroch! Grazie